Sono molto orgogliosa di questa esperienza, Briciole sul mare è un film semplice realizzato con molta umiltà, nel senso è un film indipendente, ricco di valori e di tradizioni e soprattutto realizzato col cuore di chi vive l'essenza delle città di mare e quindi noi trapanesi o comunque noi siciliani, ma parlo anche del sud, anche della Puglia perché il regista e attore protagonista di questo film è di Copertino quindi il film infatti è girato sia a Copertino che a Marsala dove viene appunto valorizzato il mare e le bellezze del sud Tu sei la protagonista femminile, stasera dicevamo verrà proiettato a Trapani dove e a che ora? Verrà proiettato al Cinema Diana alle 20 e alle 22 stasera e mercoledì 20, sempre stesso orario Io interpreto il personaggio di Maria, la coprotagonista fidanzata di Salvo il protagonista del film, i due vivranno una storia d'amore ostacolata come tutte le storie dove però l'amore sicuramente riuscirà a far superare tutti gli ostacoli La cosa particolare di Maria è che è una ragazza che non vuole accontentarsi di quello che offre il paese vorrebbe andare via, vorrebbe partire in cerca di fortuna e invece rimane ancorata a questa storia con Salvo che a differenza sua vuole invece rimanere e spera che le cose nel paese possano cambiare aggiungo che io invece a differenza di Maria, ahimè o per fortuna qualche anno fa ho fatto una valigia e sono andata via da qui a Malincuore perché è una terra meravigliosa però purtroppo inespressa o poco valorizzata che purtroppo non mi ha offerto quello che desideravo Tu sei impegnata non solo nel mondo del cinema ma anche nel mondo del varietà e tanti progetti a Roma, quali sono quelli futuri? Sì, al momento stiamo debuttando al Teatro Salone Margherita di Roma con la mia compagnia, col Micca Club una compagnia di spettacoli di varietà ambientati appunto nella Belle Epoque quindi anni 20, 30, arriviamo anche ai 50 e saremo lì fino a fine maggio e poi in attesa di altre date, insomma altre tappe grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti